Costruire un nuovo polo scolastico per circa 900 studenti nei pressi del Centro Storico Teramano è il nuovo ambizioso progetto del Sindaco di Teramo Marizzo Brucchi, che ieri ha sottoposto al Commissario per la Ricostruzione Vasco Errani e al Ministero dell'Istruzione l'idea del polo scolastico all'acqua viva. Con l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici interessati è emerso che l'85% degli edifici è al di sotto della soglia minima di sicurezza. Di conseguenza il Comune ha definito le necessità economiche per adeguare il patrimonio scolastico pari a 53 milioni di euro. Ma il Comune tranquillizza i residenti informando che allo stato attuale sono finanziate la ricostruzione con l'adeguamento sismico della scuola di Villa Ripa con 233 mila euro e la scuola elementare San Giuseppe con un totale di 4,1 milioni di euro, interventi che si sposano con quelli nel vecchio stadio comunale. L'Ordine degli architetti della provincia di Teramo si è offerto per dare un supporto qualificato al Comune e ai cittadini. L'Ordine fa presente che per la realizzazione dei nuovi poli scolastici si deve assolutamente tener conto dell'integrazione degli edifici con il tessuto urbano, della microzonazione sismica del territorio, dell'accessibilità al trasporto pubblico locale e delle vie di fuga e di accessibilità ai mezzi di soccorso. Genitori e alunni possono stare tranquilli. Le forze comunali si impegnano a mettere al primo posto la sicurezza dei ragazzi. Grazie.